Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui introdurremo quello che è l'ambiente R, ovvero un ambiente che andremo a utilizzare durante il resto di questo corso come strumento principale per l'elaborazione e soprattutto la visualizzazione dei dati. Che cos'è R? R è sostanzialmente un ambiente free per l'elaborazione statistica e matematica dei dati e la generazione di grafici. È disponibile su varie piattaforme ed è liberamente scaricabile ed è soprattutto un ambiente e un linguaggio utilizzato in maniera molto molto diffusa. R si basa su quello che è una command line interface, CLI, che permette di andare a valutare immediatamente e velocemente delle espressioni. Oltre a questo permette di andare a scrivere degli script che poi vengono eseguiti in un colpo solo. Fornisce un ambiente completo e quindi include anche una documentazione e un sistema di help molto esteso e completo e ci sono online tantissime risorse relative a questo linguaggio che possono essere facilmente reperite. Oltre alla parte di command line interface di solito viene utilizzata un'interfaccia grafica, in particolare un ambiente integrato di sviluppo, IDE. Quello più diffuso si chiama RStudio, anche questo è open source e liberamente accessibile. Noi utilizzeremo questa copiata R più RStudio durante tutto il corso. Come funziona l'ambiente base di R? Si basa su una console, ovvero un'interfaccia testuale, che sfrutta un meccanismo di tipo REPL. REPL sta per Read, Evaluate, Print, Loop. Che cosa succede? Legge innanzitutto dalla tastiera oppure da uno script, dei comandi, delle istruzioni, delle espressioni, le valuta usando la sintassi del linguaggio R e stampa il risultato e poi fa un loop finché sostanzialmente non si esce dall'ambiente. Eventuali variabili che sono definite vengono memorizzate in quello che è un ambiente di memorizzazione comune. L'ambiente di memorizzazione è quello che permette di andare a definire le variabili, sostanzialmente associa un nome a un oggetto, dove l'oggetto può essere una variabile più o meno complessa, una struttura dati, una funzione. Questo ambiente di memorizzazione è disponibile sempre e può essere utilizzato o visualizzato in qualunque istante. e quando faccio riferimento a una variabile il cui nome è memorizzato nell'ambiente globale, questo viene recuperato automaticamente e reso disponibile. Oltre a, diciamo, l'esecuzione interattiva esistono gli script, sostanzialmente dei file di testo che contengono delle istruzioni che corrispondono al linguaggio R e che possono essere eseguite in un colpo solo oppure una per una. In effetti, quando vengono eseguite in un colpo solo, di fatto, è come se io mettessi una per una le istruzioni all'interno dell'ambiente interattivo REPL e le facessi eseguire. Oltre all'ambiente predefinito, uno dei punti di forza dell'ambiente R è che ci sono tantissime librerie predefinite. Queste si chiamano dei package. Ogni package contiene delle funzioni, eventualmente dei dati e soprattutto la documentazione sull'uso di queste funzioni. È possibile andare a installare dei package che sono disponibili online, ce ne sono migliaia, sul sito ufficiale dell'ambiente R. L'installazione può essere fatta utilizzando la funzione install packages da linea di comando oppure, se utilizziamo l'ambiente R studio, anche dal menu tools, c'è una funzione install packages che ci permette di selezionare i package da installare. Ogni volta che io voglio utilizzare le funzioni definite in un package, devo caricarlo utilizzando la funzione che si chiama library, a cui passo come parametro il nome del package di cui voglio andare a rendere disponibili e utilizzabili le funzioni. Abbiamo menzionato l'help, in qualunque istante dalla linea di comando posso scrivere punto interrogativo e il nome di una funzione e automaticamente questo mi apre una finestra aggiuntiva in cui posso andare a leggere l'help e la documentazione relativa a quella funzione. Se utilizzo un ambiente integrato a R studio avrò un pannello apposito in cui posso andare a vedere l'help e in cui posso andare a fare la ricerca per nome o parola chiave delle funzionalità di cui voglio avere ulteriori informazioni. Veniamo a parlare di quello che è il linguaggio R, quindi il linguaggio che viene utilizzato e compreso dall'ambiente interattivo. Il linguaggio prevede quelli che sono le istruzioni o statement, in cui abbiamo ovviamente l'assegnazione, espressioni di vario tipo, aritmetiche o logiche, ovviamente istruzioni di controllo perché è un linguaggio di programmazione quindi devo poter usare gli if e i for, posso avere delle funzioni che raggruppano un insieme di istruzioni e di espressioni che possono essere richiamate facilmente, le variabili ovviamente che abbiamo menzionato e queste variabili possono essere di vari tipi, possono essere di un tipo primitivo, ad esempio numerico oppure di tipi più complessi e composti, come ad esempio gli array. Gli statement, come vengono inseriti? Vengono inseriti in maniera testuale e sono terminati sostanzialmente da quello che è un a capo, una new line. In alternativa posso anche terminare con un punto e virgola, uno statement, e questo è utile per alcuni casi particolari in cui voglio evitare delle ambiguità, oppure se io voglio andare a inserire sulla stessa linea di testo più statement e questi verranno poi valutati allo stesso tempo. Posso anche andare a definire dei commenti utilizzando il carattere hash, diesis, da quando il R incontra questo carattere, da quel carattere lì fino alla fine della linea sostanzialmente ignora tutto e considera quello come un commento. Per cui posso utilizzare dei commenti che prendono tutta la linea, mettendo il slash come primo carattere all'interno di una linea, oppure posso scrivere una normale istruzione R e poi alla fine mettere il simbolo di hash e un commento e questa parte, quest'ultima parte della linea, viene normalmente ignorata. Abbiamo parlato dell'assegnazione che è l'istituzione principale più semplice, viene fatta con l'operatore freccia che permette di assegnare un certo valore a una variabile, quindi associa un valore a un nome e memorizza questa associazione dentro l'ambiente globale. Le variabili non hanno un tipo predefinito, nel senso che io posso assegnare in momenti diversi valori di tipo diverso alla stessa variabile. Per cui posso assegnare inizialmente quello che è un valore di tipo stringa, come questo 42, e successivamente andare a assegnare alla stessa variabile il valore numerico 42. L'assegnazione che cosa fa? Prende il valore o l'espressione che metto alla destra dell'operatore di assegnazione e la valuta e memorizza nell'ambiente globale l'associazione tra il nome e il valore. In generale R consente anche di utilizzare l'uguale invece della freccia, però per norme di buona programmazione si consiglia di non utilizzarlo e utilizzare per l'assegnazione esclusivamente la freccia. Attenzione ai nomi che utilizzate perché, come abbiamo visto prima, io posso sovrascrivere tranquillamente il valore di una variabile esistente e quindi potrei andare a sovrascrivere anche il valore di variabili predefinite dal sistema e questo viene fatto senza che venga generato nessun errore. Quindi bisogna stare attenti ai nomi perché è facile andare a sovrascrivere qualcosa che già esiste se non si usano i nomi con un po' di attenzione. Che nomi andiamo a scegliere per le variabili? I nomi sono validi, tutti quelli che iniziano con una lettera, maiuscola o minuscola, possono contenere dei numeri, dei punti, degli underscore, non possono contenere degli spazi. La raccomandazione è di utilizzare per le variabili dei nomi esclusivamente minuscoli e se i nomi sono composti da più parole posso collegare queste parole con gli underscore. E ovviamente, come dicevo, fare attenzione a non utilizzare nomi di variabili o funzioni predefiniti perché questi verrebbero sovrascritti senza nessun avviso. Come faccio a definire le espressioni? Le espressioni sono scritte con la solita notazione, il nostro interprete R che cosa fa? Va a valutare le espressioni, se ci sono dei nomi va a cercare questi nomi all'interno dell'ambiente globale e sostituisce il loro valore all'interno dell'espressione. Ogni volta che inserisco un'espressione, automaticamente questa viene valutata, viene stampata. Oltre ad avere questa valutazione e stampa automatica, io posso utilizzare la funzione print se voglio andare a esplicitamente chiedere di stampare un valore. Quali sono i tipi di variabili che posso utilizzare all'interno di un R? Allora, il tipo predefinito e il tipo numerico che viene memorizzato utilizzando una codifica standard, la I754, che è quella utilizzata universalmente per i numeri in virgola mobile. Oltre ai valori numerici che sono predefiniti abbiamo anche i valori interi. Può essere utile a volte avere dei valori interi invece che in virgola mobile perché, come probabilmente ricordate, i numeri in virgola mobile non sempre sono precisi. A volte sono una rappresentazione approssimata di un particolare numero. E quindi, se io voglio avere invece un numero esattamente rappresentato con una precisione assoluta, devo per forza utilizzare un intero. A volte, per forzare la comprensione di un intero e non di un numeric, posso andare a mettere la lettera L subito dopo il numero. Quindi 42L significa il numero 42 ma memorizzato come intero. Se non metto la L, automaticamente R considera quello un valore numerico e quindi lo memorizza come valore in virgola mobile. Oltre ai valori numerici ho anche numeri complessi. R, essendo un ambiente di tipo statistico-matematico, permette di gestire i numeri complessi. Per cui, ad esempio, la radice di meno 1 può essere calcolata se io decido di andare a fare questa operazione nel contesto dei numeri complessi. Inoltre ho le variabili logiche, che possono avere due valori che sono predefiniti, che si chiamano true e false. Quindi le parole true e false, tutte maiuscole, sono delle parole chiave del linguaggio. Oltre a queste ci sono due variabili predefinite, T ed F, che hanno sostanzialmente i valori true e false e quindi possono essere utilizzate come abbreviazioni. Attenzione che queste sono variabili e quindi potenzialmente potrebbero essere sovrascritte. Quindi la raccomandazione duplice è, primo, cercare di non sovrascrivere variabili che si chiamano T maiuscolo, perché andremo a impattare chi utilizza quel valore come se fosse un sinonimo di true e per essere sicuri evitare di utilizzare T noi stessi come sostituto di true, scrivere true per esteso, in modo che se qualcuno per sbaglio sovrascrive T noi siamo sicuri che il risultato sia corretto. Abbiamo poi le stringhe, il nome del tipo si chiama character, ma è un caratter, è una stringa di caratteri. In R posso andare a rappresentare i letterali di stringhe di caratteri utilizzando sia i singoli che i doppi apici. Non essendoci una distinzione tra singoli caratteri e stringhe, come ad esempio in C, in R posso utilizzare entrambi i delimitatori e questo mi dà un po' di flessibilità e di comodità. Quali funzioni posso utilizzare per andare a capire di che tipo è un certo valore? Posso utilizzare innanzitutto la funzione class che mi dice di che tipo è una variabile, un valore oppure il risultato di un'espressione. Posso andare a verificare se un certo valore è di un dato tipo utilizzando le funzioni che si chiamano is. e poi il nome del tipo, quindi numeric, integer, complex, logical o caratter. Quindi se voglio sapere se un certo valore è intero posso scrivere is integer. Inoltre posso fare una conversione da un tipo all'altro con le funzioni che si chiamano as. il nome del tipo. Ad esempio se voglio convertire da un numerico a un integer posso scrivere as.integer del valore numeriche e quello che ottengo è un valore di tipo integer. Oltre ai valori numerici, le stringhe eccetera, R prevede una serie di valori speciali che possono essere utilizzati un po' ovunque. Allora, un valore potrebbe non essere disponibile tra i nostri dati. Ad esempio abbiamo fatto una raccolta di dati e per una certa osservazione non siamo riusciti a raccogliere il dato. Come rappresentiamo questo fatto? R ci mette a disposizione il valore speciale NA che significa not available. Quindi abbiamo i nostri dati, tra questi alcuni potrebbero essere not available. Posso andare a verificare se un valore è di tipo NA con la funzione is.na che ovviamente ci restituisce un valore logico, true oppure false. Un altro caso è il caso in cui io abbia una variabile e a quella variabile non voglio assegnare nessun valore esplicitamente. Magari inizialmente non voglio assegnare nessun valore e poi andrò a sovrascriverlo. Per questo scopo R ci mette a disposizione il valore speciale NULL che dice che sostanzialmente quello è un oggetto vuoto. Inoltre alcune volte delle operazioni matematiche ci danno dei risultati che non esistono. Ad esempio il logaritmo di meno 1 è un valore inesistente. Per questi casi R ci restituisce un nome, un valore speciale che si chiama NAN che significa not a number. E posso andare a testare se un valore è not a number con is.na Ultimo valore speciale è inf che sta per infinito. Per cui se io ad esempio inserisco l'espressione 1 diviso 0, quello che ottengo non è not a number ma bensì inf. E viceversa se io faccio 1 diviso inf quello che ottengo è 0. Questo ci permette di avere dei risultati corretti anche in espressioni un po' particolari invece di ottenere quello che è un risultato non valido. Tenete presente che una volta che io ho un valore non valido posso provare a combinarlo in qualunque modo con qualunque operatore ma not a number più un qualunque altro numero mi dà comunque not a number perché non valido più per diviso meno quello che volete di qualunque altro numero è comunque un numero non valido. Gli operatori che posso utilizzare sono sui valori numerici interi, i soliti operatori aritmetici, l'elevazione potenza che è data dall'accento circonflesso e sui valori interi può aver senso andare a calcolare il modulo, quindi il resto della divisione, che viene rappresentato col doppio per cento. Inoltre posso fare delle operazioni di confronto, uguale, diverso, minore, minore, uguale, maggiore, maggiore, uguale. Il risultato di un confronto è un valore di tipo logico, quindi se confronto due numeri, due stringhe, il risultato è logico, quindi true oppure false. Questi operatori funzionano anche sulle stringhe, quindi io posso andare a confrontare due stringhe per vedere qual è quella più grande, seguendo l'ordine lessicografico alfabetico standard normale. Che operazioni posso svolgere sui caratteri? A parte i confronti posso andare ad esempio a vedere quanti sono i caratteri in una stringa e questo lo faccio con la funzione nchar. Se invece voglio andare a concatenare più stringhe, lo posso fare con la funzione paste, che riceve un numero di parametri variabile e sostanzialmente li compatta uno assieme all'altro e mi dà la concatenazione. La concatenazione è fatta con un valore di separazione. Il valore di separazione normalmente è indicato da questo ulteriore parametro che si chiama sep e che per default ha come valore uno spazio. Quindi vedete che in questo caso visualization o quantità di information viene memorizzato come visualization spazio of eccetera. Un'altra operazione che posso fare sulle stringhe è quella di andare a estrarre una sottostringa. Ad esempio se ho il titolo visualization o quantità di information e vado a prendere i caratteri dal 15 al 16, quindi due caratteri, quello che ottengo è sostanzialmente la coppia di caratteri of. Oltre a estrarre delle sottostringe io posso andare a rimpiazzarle, per cui cosa che è un po' particolare come notazione, posso andare a dire substring title 15-16, quindi vado a identificare quella coppia di caratteri che stanno alle posizioni 15-16 e poi vado a indicare sostanzialmente un'assegnazione, quindi assegno a quella coppia di caratteri una nuova stringa, of. E quindi vado a rimpiazzare quella coppia di caratteri con una nuova sottostringa. In questo caso particolare la sottostringa di partenza e quella sostitutiva hanno la stessa lunghezza, ma in linea di principio io posso andare a sostituire una sottostringa con un'altra che sia più breve o anche più lunga. Ovviamente le stringhe verranno ridimensionate o allargate a seconda dei casi. Quando vado a definire delle istruzioni molto spesso può essere utile, soprattutto per le istruzioni di controllo, andare a aggruppare un insieme di istruzioni utilizzando un blocco. E per fare questo lo faccio normalmente utilizzando le graffe, come si fa in buona parte del linguaggio di programmazione. Il risultato è che il blocco di istruzioni racchiuso tra graffe viene considerato come un'unica grossa istruzione composta. I blocchi di statement vengono utilizzati nei costrutti di controllo, come ad esempio if, while e for. Come funziona if? L'if funziona con una sintassi sostanzialmente analoga a quella che è presente in quasi tutti i linguaggi, quindi c'è un if, una condizione, un blocco che viene eseguito nel caso true, else e un blocco nel caso false. Qui posso segnare un certo valore ad a, se a è minore di 0 viene stampato negative, altrimenti viene stampato positive. Quindi il risultato è questo. Quindi andrà a valutare R o questo valore oppure quest'altro. Il costrutto while, anche questo è assolutamente analogo, while, condizione e poi l'istruzione che dovrà essere ripetuta, oppure il blocco di istruzioni. Per cui se assegno ad a 10 posso scrivere while a maggiore di 1 e fare un'operazione di print, quindi sostanzialmente andare a dire al R di stampare il valore IA. Attenzione, in un ciclo for ovviamente R non va a valutare e stampare tutti i valori. R stampa eventualmente il valore che viene prodotto dopo il ciclo while, quindi il ciclo while non viene valutato in nessun valore. Quindi le espressioni che compaiono all'interno di un ciclo while non vengono stampate, a meno che, come abbiamo fatto in questo caso, non vengano stampate esplicitamente utilizzando la funzione print. Poi dopo aver stampato A, che cosa faccio? Vado sostanzialmente a memorizzare dentro A il valore precedente diviso 2. Quindi a ogni iterazione divido A per 2 e quello che ottengo è inizio con 10, poi ottengo 5, poi 2 e mezzo, poi 1 e 25 e poi ottengo un valore che è minore di 1. E quindi il ciclo while non prosegue ma sostanzialmente termina ed esce. Su questo esempio ricordiamoci che tutte le volte che ho un ciclo, le espressioni che fanno parte del ciclo non vengono stampate. Ovviamente vengono valutate una dopo l'altra, ma non vengono stampate. Quindi se voglio avere una stampa di una certa espressione all'interno di un ciclo, devo ricordarmi di utilizzare la funzione print. Un altro elemento fondamentale del linguaggio R è la possibilità di definire delle funzioni. E questo lo faccio con la parola chiave function. Per cui posso definire un nome, freccia, quindi uso un'assegnazione. Vi vedete che le funzioni sono come dei valori un po' particolari. Quindi assegno a nome percentage il valore della funzione che ha due parametri, part e all, e che sostanzialmente mi dà come risultato part diviso all per 100. Una funzione sostanzialmente mi dà come risultato l'ultima espressione. Io posso avere tante espressioni dentro il blocco di istruzioni. L'ultima è quella che vale come risultato della funzione. Oppure, immaginate di avere dei costrutti di controllo, ad esempio degli if, posso utilizzare un return per andare a dire che il valore è questo da restituire. I parametri possono anche avere dei valori di default, per cui, ad esempio, posso andare a dire che part, se non è specificato, vale 1, e all, se non è specificato, vale 1. E fare ovviamente un return, quindi o l'ultima istruzione, oppure quella specificata da return. Attenzione, ricordatevi che in R il return vuole forzatamente avere questa coppia di parentesi, ok? Quindi è come se fosse una funzione. Come faccio a invocare una funzione? La posso invocare con la solita notazione posizionale, quindi il primo parametro che specifico corrisponde al primo parametro formale, e via di questo passo. Oppure posso andare a utilizzare anche i nomi degli argomenti, e a questo punto l'ordine non è più importante. Quindi posso dire all, che era il secondo parametro, uguale a 4, part uguale a 3. Posso anche volendo utilizzare un misto, quindi andare a mettere alcuni valori posizionali, i primi, e poi dare dei nomi a quelli successivi. E posso ovviamente andare a utilizzare anche i valori di default, per cui posso scrivere part uguale a 0,75, sapendo che comunque all è predefinito uguale a 1. Piccolo esercizio da svolgere a casa. Provate a definire una funzione che si chiama Pythagoras, che accetta tre valori, A, B e C. Uno di questi valori può essere mancante. Abbiamo visto che io posso omettere alcuni parametri se ho dei valori di default. E quello mancante sostanzialmente viene calcolato utilizzando il teorema di Pitagora, dove ovviamente A e B sono i due cateti e C è l'ipotenusa. Piccolo suggerimento. Conviene assegnare come valori di default ai tre parametri un valore speciale, in modo che sia in grado, all'interno della funzione, di andare a verificare se A o B o C hanno quel valore speciale e se hanno quel valore speciale allora vuol dire che quello è il valore da calcolare in base agli altri due. Vado oltre e vi lascio l'esercizio. In fondo a queste slide ci sono le soluzioni. Iniziamo a parlare di tipi di dato un pochettino più complessi. In particolare iniziamo a parlare di quelli che sono i vettori. In generale in R tutti i valori sono considerati come dei vettori, anche i valori scalari. Sono sostanzialmente considerati come vettori di dimensione 1. E quindi, normalmente, quando li stampo, se si vengono messi su più linee, prima di ogni riga c'è tra quadre un valore che mi dice l'indice del primo elemento di quella linea. In effetti, se ricordate, negli esempi precedenti, prima di ogni valore che veniva stampato come risultato, torno indietro, ad esempio qui, prima di ogni valore c'era scritto 1. Quest'1 indica che il risultato di percentage è un array e l'elemento con indice 1 è quello che segue 75. Se ci fossero più elementi avremmo 75 e poi tutti gli altri elementi del nostro array. Come faccio a creare degli array? Li creo con una funzione di combinazione che si chiama c, combine. C ha tanti parametri quanti sono gli elementi dell'array che voglio andare a creare, del vettore che voglio andare a creare. Ricordandoci che i valori scalari sono array di dimensione 1, quindi scrivere 1 oppure scrivere c di 1, è esattamente la stessa cosa. Posso creare dei vettori anche utilizzando l'operatore di tipo range, il due punti. Quindi se scrivo esempio 1, 2, 3, automaticamente ho creato un array con i numeri interi che vanno da 1 a 3, quindi 1, 2, 3. Quindi 1, 2, 3 equivale a scrivere c, aperta tonda, 1, 2, 3, chiuso tonda. Il risultato è esattamente lo stesso. Il range ovviamente si basa su numeri interi e genera un array con valori che sono valori interi. Posso fare delle operazioni di fusione di vettori, quindi utilizzando sempre l'operazione di composizione c, se passo invece che dei singoli elementi degli altri vettori, questi vengono concatenati l'uno con l'altro. Attenzione che si presume che all'interno di un vettore i valori siano tutti dello stesso tipo. E quindi se concateno dei valori che sono interi con altri valori che sono ad esempio numeriche, c'è una conversione di tipo, quindi i valori interi verranno convertiti in numeriche. Tutti i vettori hanno una certa dimensione, ovvero il numero di elementi presenti, per sapere qual è la dimensione di un vettore posso utilizzare la funzione length. Quindi length di un certo vettore mi dice quanti elementi sono presenti. Questo è molto comodo per poter ad esempio fare dei cicli sui vettori. Posso fare anche delle operazioni aritmetiche sui vettori. Ad esempio posso fare una somma tra due vettori. Come viene fatta la somma tra vettori? Sostanzialmente quando faccio delle operazioni aritmetiche quelle operazioni vengono applicate per coppie di elementi che hanno la stessa posizione. Quindi vettore più altro vettore significa che avrò come risultato un vettore il cui primo elemento sarà la somma dei primi elementi di due vettori di partenza. Il secondo elemento sarà la somma dei secondi elementi dei due vettori di partenza, eccetera. E' possibile anche andare a sommare due vettori che abbiano dimensioni diverse. In questo caso l'operazione che viene fatta è un'operazione un po' particolare che si chiama di recycling, ovvero il vettore più corto viene riciclato, viene ripetuto più volte in modo che continuando a ripeterlo raggiunga la dimensione di quello più lungo. Il recycling funziona però soltanto se il vettore più corto è un sottomultiplo di quello più lungo. Quindi se io sommo ad esempio un array di qualunque dimensione con un valore scalare, quindi array di dimensione 1, questo funziona sempre. Vuol dire che io sommo quel particolare elemento a tutti gli elementi dell'altro vettore. Però se provo a sommare un vettore di dimensione 5 con un vettore di dimensione 3, ecco questo non funziona perché il vettore di dimensione 3 dovrebbe essere ripetuto due volte, però due volte è venuta 6 e quindi non c'è una corrispondenza corretta. Quindi il vettore più scalare funziona bene perché lo scalare, avendo dimensione 1, è sicuramente un sottomultiplo di qualunque altra dimensione, altrimenti se ho vettori di dimensioni diverse il risultato è un po' complicato e devo essere sicuro che siano uno multiplo dell'altro come lunghezza. Ho anche dei vettori vuoti, ovvero vettori con dimensione nulla. A volte quando ho delle operazioni è possibile che il risultato di un'operazione sia un vettore di dimensione nulla. Come faccio a creare un vettore di dimensione nulla? Beh, posso andare a specificare un certo nome di tipo, ad esempio numeric, e poi mettere tra parentesi la dimensione del vettore. Quindi se scrivo numeric di 0, ottengo un vettore di dimensione nulla, 0. Come faccio ad accedere agli elementi di un array? Faccio come in tutti i linguaggi di programmazione, utilizzando gli operatori delle quadre. Quindi le quadre a cui interno vado a specificare un indice mi permettono di andare a accedere a un elemento con quell'indice. Attenzione, 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 in R gli indici partono da 1 e non da 0. Ripeto, in R gli indici partono da 1 e non da 0. Quindi l'errore più comune che viene fatto inizialmente programmando in R è di immaginare, come avviene in tutti o quasi tutti gli altri linguaggi di programmazione, che l'indice del primo elemento sia 0. No, l'indice del primo elemento è 1. Una volta che ci si ricorda questo, ecco, le operazioni con i vettori in R sono sostanzialmente analoghe a quelle che potete avere in altri linguaggi. Se io vado a mettere l'indice 0, il risultato che cos'è? È un array vuoto. Ok, di dimensione 0. Se invece io vado a mettere un indice fuori dai limiti dell'array stesso, il risultato è na. Quindi se ho un array di 5 elementi e vado a prendere il sesto, il risultato è elemento non disponibile. Sugli array posso anche fare delle operazioni molto più complicate. Ad esempio posso andare a fare quello che si chiama slicing, ovvero affettare il vettore e prendendone alcuni elementi, alcuni pezzi. Come faccio a fare lo slicing? Vado a specificare come indice non un numero, che è l'accesso normale, ma bensì vado a specificare come indice un vettore di numeri, praticamente interi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se metto s quadre c 1,3, sto dicendo che voglio andare a affettare il mio array s andando a prendere gli elementi con indice 1 e con indice 3 e scartando gli altri. Quindi il risultato sarà un array con due elementi che sono quelli che stavano nella posizione 1 e 3 dell'array s di partenza. Lo slicing permette anche di fare le operazioni un pochettino più complesse, che non sono semplicemente andare a prendere un sotto insieme di quello che è il vettore di partenza, perché in quel vettore che specifica gli indici, gli indici possono essere ripetuti. Per cui io posso andare a dire s di c 5 1 1 1 e questo sostanzialmente cosa fa? Mi permette di andare a replicare l'elemento 1 due volte. E questo mi permette di fare una sorta di tabella di corrispondenze. Quindi non è detto che l'array risultante sia più corto di quello di partenza. Potrebbe anche essere più lungo se gli indici che vado a specificare sono più degli indici di quello di partenza. Ovviamente avrò degli indici ripetuti. Quindi lo slicing è un qualcosa di un po' particolare. Per il momento mi fermo, vedremo che può essere utilizzato per scopi particolari un po' più avanti quando vedremo degli usi un po' più avanzati del linguaggio. Per il momento cerchiamo di focalizzarci su quelli che sono i rispetti base del linguaggio. Altro modo di fare lo slicing, posso andare a utilizzare un array di valori logici. Se l'elemento è true, vuol dire che prendo quell'elemento dell'array di partenza. Se è false, lo scarto. Per cui ad esempio, in questo caso, il primo elemento è true, il secondo è false, il terzo è false, il quarto è false e infine l'ultimo è true. Quindi vuol dire che andrò a prendere il primo, secondo no, terzo no, quarto no e il quinto elemento. Quindi questo è anche un altro modo di andare a definire quella che è una maschera che mi dice quali elementi vado a prendere e quali no. In questo caso è il risultato dello slicing, con un vettore di valori logici, è per costruzione, per definizione, un sottoinsieme del vettore di partenza. In cui alcuni elementi sono presi e altri sono scartati. A questo punto, avendo parlato dei vettori, possiamo parlare del ciclofor, ciclofor che ha una sintassi diversa da quella che abbiamo nei linguaggi di programmazione più comuni, C, Java, Python, perché permette di fare un'iterazione non con un indice, ma bensì un'iterazione sugli elementi di un vettore. Per cui la sintassi è for, variabile, in, vettore. Questo vuol dire che a ogni iterazione la variabile assumerà un valore diverso che corrisponde a tutti gli elementi successivi consecutivi del vettore. Per cui, ad esempio, se voglio andare a calcolare il minimo di un certo vettore, posso dire per D che sta in questo vettore, per D che assume tutti i valori successivamente, quindi alla prima iterazione D varra 7, alla seconda iterazione D varra 2, alla terza varra 5, eccetera, e via di questo passo. Per ogni iterazione vado a vedere se D è minore del minimo, che ho inizializzato a questo valore grande che è 100, se D è minore di questo valore iniziale, allora assegno a min il valore di D. Ok, ho trovato un numero più piccolo del precedente minimo. Altrimenti non faccio nulla e semplicemente itero sull'elemento successivo del mio array. Quindi sostanzialmente vado a cercare, vado a scandire tutti gli elementi di questo mio array, vettore, e per ogni iterazione assumo un valore diverso. E ovviamente il valore finale in questo caso è il valore che, diciamo, è il minimo. La stessa tipo di iterazione può essere anche fatta con un indice su un intervallo. Quindi, un qualcosa di questo tipo, volendo fare sempre il calcolo del minimo, se noi abbiamo un array con i numeri, possiamo, con un ciclo che va da 1 alla lunghezza dell'array di numeri, verificare se l'elemento iesimo di numeri è minore di min, allora min è uguale a l'elemento iesimo di numeri. Quindi, i in 1, 2 punti, length di numbers, ovviamente questo 1, 2 punti, length di numbers, mi genera una sequenza che va da 1 fino all'indice massimo dentro l'array, dentro il vettore numbers, quindi i conterrà tutti gli indici che sono validi per questo vettore, se l'elemento è l'indice iesimo è minore di minimo, allora il minimo è uguale a quell'elemento. Il risultato, ovviamente, è anaro a quello di prima. Quindi, posso sia andare a fare una scansione utilizzando un indice, in alcuni casi può essere utile avere l'indice e non semplicemente il valore, oppure, come abbiamo visto prima, avere semplicemente un'iterazione che esamina ogni volta un elemento successivo dello stesso array, senza nessun indice esplicito. All'interno di cicli di tipo for, ma anche while, è possibile utilizzare i due parole chiavi di controllo del loop, break e next. Break, sostanzialmente, termina il ciclo e salta la prima istruzione successiva al ciclo. Next, sostanzialmente, passa l'iterazione successiva saltando quello che resta all'interno del corpo del ciclo. I vettori, oltre ad avere un elenco di valori e avere un indice, possono anche avere dei numeri, dei nomi, scusate. Per cui, ad esempio, io posso avere un array che contiene il primo elemento che si chiama January, il secondo February, March, eccetera, con il numero di giorni dei vari mesi. Quando stampo questo tipo di array, il risultato è sostanzialmente quello che vediamo qua sotto, quindi sopra ogni valore viene riportato il nome di quell'elemento. Una volta che io ho gli elementi, posso anche andare a utilizzare gli elementi, i nomi degli elementi, come indice. Quindi, se io vado a prendere days e passo come indice non un numero, ma feb, che è il nome del secondo elemento, ecco che ottengo come valore feb 28. Quindi ho la slice e posso fare anche la slice di feb ed etch, ottenendo i giorni di febbraio e dicembre. Quindi la possibilità di fare uno slicing, un'indicizzazione tramite il nome è molto utile e mi permette, ad esempio, avendo una serie di valori con il relativo nome, di recuperare quello corretto. Per sapere quali sono i nomi degli elementi di un vettore, posso utilizzare la funzione names, che mi restituisce a sua volta un vettore di stringhe. Quindi il vettore di stringhe dove ogni stringa contiene il nome dell'elemento corrispondente. La funzione names, un po' come sub string, permette anche di assegnare i nomi. Quindi io posso definire, come in questo caso, un vettore con tre elementi e poi faccio names di triplet freccia. Quindi assegno ai nomi di questa tripletta questi tre valori, 1, 2 e 3. A questo punto, se vado a vedere il valore di triplet, è 1, 2 e 3 più i nomi che io ho assegnato con questa assegnazione. Secondo esercizio che potete provare a svolgere. Modificare la funzione Pitagoras che abbiamo menzionato prima in modo che restituisca un vettore con tre elementi che hanno i nomi A, B e C secondo il teorema di Pitagora. Per cui, di nuovo, se io passo, ad esempio, Pitagoras 3 e 4, dove A e B, i due cateti, sono 3 e 4, la funzione mi calcola l'ipotenusa, che era mancante qua, e mi dice sostanzialmente che l'ipotenusa vale 5. Se passo Pitagoras dando l'ipotenusa 5 e un cateto 4, quello che ottengo è A, B e C, quindi 4, il primo cateto, 3, il secondo cateto che viene calcolato, e C, 5, che è l'ipotenusa, anche questa data. Anche in questo caso l'esercizio lo lascio risolvere a voi, in fondo a queste slide sono presenti comunque le soluzioni che potete guardare successivamente. Altro esempio di funzione che può operare sui vettori, però vettori li genera, è la funzione str split che parte da una stringa, riceve una stringa che è l'elemento che permette di andare a suddividere la stringa di partenza, per cui se parto dal titolo del corso, quindi Visualization of Quantitative Information, se vado a suddividere in base agli spazi, il risultato è che mi vengono estratte tutte le parole del mio titolo che sono separate da spazi. Quando ho un array, un vettore di stringhe, io posso andare a fare un'operazione di paste, e in questo caso il paste cosa funziona? Funziona elemento per elemento, quindi se io vado a concatenare un vettore con i numeri da 1 a 3 e l'altro vettore con le parole 1, 2 e 3, ovviamente andrò a concatenare 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, e se vado a mettere un terzo elemento che non è un vettore, questo viene riciclato. Anche qui vale il principio del fatto che il vettore più lungo deve avere una dimensione che è una lunghezza, che è un multiplo delle lunghezze degli altri. Ovviamente se ho uno scalare 1, sono tranquillo perché questo può essere riciclato un numero di volte, se ho dei vettori con dimensioni diverse potrebbero non essere compatibili. Quindi in questo caso il punto viene riciclato, per cui ho 1, 1, punto, 2, 2, punto, 3, 3, punto. Ovviamente come vedete sono tre elementi separati, quindi il risultato è un vettore con tre elementi. Volendo io posso andare a specificare un terzo parametro che si chiama collapse, che è indicato qui, scusate, collapse mi dice, se è presente, che i risultati dell'operazione di paste, che possono essere elementi di un vettore, devono essere collassati, fusi assieme in un'unica stringa, andando a prendere i vari elementi e mettendoli uno di seguito all'altro. E collapse sostanzialmente mi specifica il carattere che viene utilizzato come separatore nell'andare a fondere questi versi, questi diversi elementi. Un'altra funzione utile per gli array, questa volta non per le stringhe, è quella che permette di andare a costruire delle sequenze. La funzione sec ha questi quattro parametri principali, from, to, by e length out, quindi da, a, compasso di e lunghezza della sequenza. Io posso andare a fornire diverse combinazioni di questi parametri e automaticamente mi viene generata una sequenza corrispondente, per cui se metto sec 1, 10, vuol dire sequenza da 1 a 10, il passo automaticamente viene assunto essere uguale a 1. Se faccio una sequenza da 1 a 10 con by uguale a 3, allora il passo diventa 3. Se faccio una sequenza da 1 a 10 che deve avere lunghezza 4, automaticamente il passo viene calcolato e quindi anche in questo caso è 3. oppure posso avere una sequenza che parte da 1 di lunghezza 10 e automaticamente anche qui il passo implicitamente è 1. Posso avere diverse combinazioni di questi parametri per andare a costruire delle sequenze che possono essere utili per generare dei vettori di interi. Quando io vado a mettere assieme valori all'interno di un vettore direttamente oppure andando a fondere dei vettori preesistenti devo sempre mantenere la regola che tutti gli elementi del vettore devono essere dello stesso tipo. Per cui può avvenire in maniera automatica quella che si chiama una coercizione di tipo type coercion. Cosa succede? Succede che R va a vedere quali sono i tipi dei vari elementi prende quello più generale secondo la sequenza che vediamo qui. Quindi character è quello più generale subito dopo viene complex poi numeric integer e logical. Per cui se io ad esempio nel primo caso 3 la stringa to e poi true ho un numeric un character e un logical e il tipo più generale è character e quindi vengono tutti convertiti in character. se io ho 22 settimi l'espressione è bene valutata e quindi il risultato viene messo dentro che è ovviamente un numeric ho 42 l quindi questo è un intero è un integer e poi ho un valore logico anche questo segue la stessa regola abbiamo un numeric un integer e un logical il numeric è quello più generale tra questi tre tipi e quindi viene convertito tutto in numeric quindi 22 settimi diventa 3,14 42 diventa 42,0 ok diventa un numeric e false viene convertito scusate nel valore 0 quando passo da un valore logico a un valore numerico automaticamente true diventa 1 e false diventa 0 io posso anche andare a forzare una conversione di tipo con la funzione as punto il tipo in cui voglio convertire chiedo a R di farmi la conversione per cui automaticamente tutti gli elementi che vengono passati può essere un elemento singolo può essere un un vettore vengono convertiti nel tipo richiesto ad esempio io posso chiedere as numeric di questo array di stringhe che contengono 1 B e 3,2 ovviamente 1 e 3,2 vengono convertiti senza problemi il problema è B che ovviamente non è un numero e non può essere convertito in un numero qual è il risultato qual è la soluzione che viene presa da R è quella di andare a inserire dove non è possibile fare la conversione un NA quindi qual è il valore numerico di B è un valore che non è disponibile quindi durante queste conversioni è possibile che venga introdotto un NA ovviamente in queste conversioni se viene inserito un NA viene segnalato anche questo warning quindi ci sono stati introdotti degli NA a causa di una coercizione di tipo un'altra conversione è giusto esempio se io voglio convertire in un valore logico queste stringhe quindi true false t v e 0 ok true e false maiuscolo minuscolo vengono riconosciuti quindi vengono convertiti la t anche questa viene riconosciuta come abbreviazione di true e quindi viene convertita in true invece v e 0 non vengono riconosciuti e quindi questi diventano due NA anche in questo caso gli NA vengono inseriti in seguito alla coercizione di tipo non vengono riconosciuti che vengono riconosciuti la conversione da valore logico a valore numerico segue queste convenzioni quindi da true diventa 1 e false diventa 0 per cui ad esempio se io vado a prendere i giorni dei mesi e faccio days uguale uguale a 30 l'uguale uguale sostanzialmente va a confrontare tutti gli elementi del vettore days con 30 visto che le lunghezze sono diverse il 30 viene riciclato e quindi viene esteso a 12 copie e quindi ogni valore del array days viene confrontato con 30 e quindi viene costruito un vettore di valori logici perché quando faccio un confronto il risultato è un valore logico quindi il risultato è un vettore con i nomi perché quel vettore di partenza aveva già i nomi e quindi questi vengono preservati in cui abbiamo un true nel caso dei mesi con 30 giorni se io voglio sapere ad esempio quanti sono i mesi con 30 giorni posso fare un'operazione di somma scusate di somma di questo vettore come viene fatta la somma di un vettore di valori logici beh sostanzialmente viene convertito in numerico quindi i true diventano 1 e i false diventano 0 e quindi il sum di un vettore di valori logici sostanzialmente mi dice quanti sono i valori true in questo caso 4 e 4 mesi dell'anno con 30 giorni volendo posso anche andare a utilizzare questo vettore 30 di valori logici per andare a estrarre i nomi di questi famosi mesi qui se faccio names 60 days quindi vado a prendere il vettore di stringhe che corrisponde ai nomi del vettore di giorni faccio uno slicing con 30 che è un vettore di valori logici e il risultato sono i 4 mesi che hanno 30 giorni in generale può essere molto utile andare a filtrare o identificare gli elementi di un vettore che rispondono a certe caratteristiche un modo di fare questo è la funzione which che restituisce gli indici degli elementi che soddisfano una certa condizione per cui ad esempio se vado a fare 30.x assegnato da which days uguale a 30 mi dà gli indici degli elementi del vettore days che hanno 30 giorni per cui 4 6 9 e 11 questi sono gli indici ovviamente se vado a prendere i nomi di questo indice di questo vettore ottengo per l'appunto quei nomi perché i nomi vengono riportati estratti dal vettore di partenza altre operazioni che posso fare sui vettori ovviamente è quello di andare a ordinarli per cui posso utilizzare sort che mi restituisce una versione ordinata del vettore di partenza attenzione la funzione sort non modifica il contenuto del vettore ma ne crea uno nuovo ordinato l'ordinamento funziona anche con le stringhe ok fa confronto esattamente come avviene con gli operatori di confronto e mi ordina le stringhe oltre all'ordinamento esiste una funzione che si chiama order che cosa fa mi restituisce una serie di indici che sono ordinati in base al valore dei valori corrispondenti per cui il risultato dell'operazione order sarà un vettore di indici e il primo indice che compare dentro questo vettore è l'indice di quello che dovrebbe essere il primo elemento nell'ordinamento quindi ad esempio se vado a ordinare i numeri di prima il primo elemento che dovrebbe comparire è l'elemento con indice 4 per cui se io combino lo slicing con il risultato di order ottengo praticamente un ordinamento ok l'elemento 4 era quello che vale 2 quindi se vado a mettere numbers di order di numbers ottengo uno slicing dove gli indici sono sostanzialmente quelli legati all'ordine tra i valori degli elementi e quindi il quarto elemento è il primo che viene messo poi c'è il primo elemento che viene messo come secondo il quinto elemento che viene messo come terzo il secondo elemento che viene messo come quarto che è 7 il sesto elemento che viene messo come quinto e il terzo elemento che viene messo per ultimo che è 14 sort funziona bene quando devo andare ad ordinare un semplice vettore order può essere utile se io voglio se ho più vettori diversi e voglio ordinare tutti i vettori in base all'ordinamento di uno di questi un'altra funzione collegata a sort e order è rank che sostanzialmente mi calcola il ranking dei valori quindi se io faccio r rank di numbers e metto come nomi di questo vettore di numeri verso il vettore di ranking i valori dei numeri di partenza ottengo che 3 7 14 2 5 8 erano i numeri di partenza questi sono diventati dei nomi e il ranking è quello che vediamo qua sotto quindi il ranking mi dice che in prima posizione c'è l'elemento con valore 2 in seconda posizione c'è l'elemento con valore 3 la terza posizione è quella con l'elemento con valore 5 ok quindi mi da il ranking l'ordinamento la graduatoria scusate l'ordinamento dei valori che stanno dentro un vettore altra operazione che posso fare sui vettori c'è l'operazione di matching che sostanzialmente mi permette di andare a vedere se gli elementi di un vettore sono presenti in un altro vettore per cui ad esempio qui ho John Jane Mike ed Iris e l'idea è quale di questi è presente nell'altro vettore questo qua è un po' grande ok così si vede meglio quindi vado a vedere tra John Jane Mike ed Iris quale di questi è presente in questo vettore di riferimento che contiene Jane Iris e Sam ovviamente John non c'è falso Jane c'è vero Mike non c'è falso Iris c'è vero questo può essere molto utile per andare a confrontare gli elementi di due diversi vettori in generale molto spesso capita di dover applicare la stessa funzione a tutti gli elementi di un vettore si dice che una funzione è vettorizzata se quando viene applicata a un vettore applica la stessa funzione a tutti gli elementi del vettore ovviamente buona parte delle funzioni predefinite sono vettorizzate ok quindi se voglio andare a calcolare il logaritmo la radice quadrata eccetera lo posso fare tranquillamente su un vettore in un colpo solo questo è molto più facile che dover andare a costruire un loop che applica lo stesso risultato a tutti gli elementi questa è una funzione che invece non è vettorizzata questa funzione prende un punteggio e mi restituisce un voto il punteggio è un punteggio che ovviamente sta tra 0 e 30 o in realtà può essere maggiore di 30 se il punteggio è minore di 17,5 allora il voto è fallito se il punteggio è maggiore di 30,5 maggiore di 30,5 allora il risultato è 30 e lode altrimenti il voto è l'arrotondamento del punteggio per cui se ad esempio vado a prendere una serie di punteggi 15,24,3 32,27,5 e chiamo questa funzione su questo vettore il risultato è attenzione perché ad esempio questo if score minore di non funziona perché abbiamo score tanti elementi qui ne abbiamo uno l'if cosa deve fare quale di questi risultati prende quindi il risultato è che mi dà semplicemente un unico risultato mentre invece io ne vorrei avere 1,2,3 e 4 come faccio ad applicare questa funzione su tutti gli elementi del vettore score prima soluzione uso un ciclo for quindi vado a creare un vettore grades di valori numerici con lunghezza uguale a quella dei punteggi e poi faccio un ciclo che va da 1 a lunghezza di grades e grades di i uguale a score to grade di score di i e questo funziona perché sostanzialmente mi chiama la funzione score to grade su ciascuno degli elementi che è quello che funziona correttamente ed è il modo in cui avevamo pensato la funzione un altro modo è di utilizzare quelli che sono dei funzionali un funzionale è una funzione che permette di applicare di eseguire un'altra funzione uno di questi funzionali si chiama s-apply s-apply riceve sostanzialmente come parametri un vettore una funzione e applica la funzione a tutti gli elementi del vettore e raccoglie risultati in un vettore risultato sostanzialmente fa un'operazione analoga a quel ciclo for che abbiamo appena visto per cui se io faccio grades freccia s-apply di scores il vettore e scores to grade la funzione il risultato è di applicare la funzione scores to grade a tutti gli elementi dell'array scores dandoci il risultato che è analogo uguale identico a quello di prima quindi è molto utile ed è molto più compatto utilizzare un funzionale come s-apply per andare a effettuare questa vettorizzazione delle funzioni veniamo ora a parlare di quelli che sono i tipi composti più complessi rispetto ai vettori il primo di questi tipi è quello che rappresenta le matrici è possibile costruire una matrice utilizzando la funzione matrix a cui passo un vettore quindi vedete che il vettore è sempre l'elemento di base e le dimensioni la matrice viene costruita andando a mettere gli elementi per colonne quindi in verticale vedete che con i numeri da 1 a 9 la prima colonna contiene 1 2 e 3 se voglio andare a invece riempire la colonna per riga devo aggiungere il parametro by row uguale a true in questo caso vedete che gli elementi sono organizzati per riga quindi 1 2 3 4 5 6 e poi infine 7 8 9 l'approccio per riga è quello un po' più analogo a quello che abbiamo negli altri linguaggi di programmazione per colonna è quello che funziona per default quindi attenzione a come riempiamo le matrici gli indici partono da 1 esattamente come i vettori quindi l'elemento 2 3 è la seconda riga terza colonna quindi il primo indice è la riga è la colonna scusate il primo indice è la riga il secondo indice è la colonna posso anche non specificare uno dei due indici in questo caso vado a prendere tutti gli elementi della riga se non specifico la colonna o tutta la colonna se non specifico la riga quindi faccio sostanzialmente uno slicing in una delle due direzioni oltre a questo posso anche andare invece di mettere un indice singolo a fare un'operazione di slicing sia per rig che per colonna esattamente come facevo con gli array ovviamente una volta che accedo un particolare elemento posso utilizzare l'assegnazione andando a cambiare quel particolare elemento quindi le quadre non semplicemente mi restituiscono il valore ma mi permettono anche di assegnare quel valore posso trasporre le matrici con la funzione t quindi la matrice viene sostanzialmente trasposta posso comporre delle matrici sia per colonne con cbind quindi column bind quindi le due matrici vengono messe con le colonne una fianco all'altra oppure per riga rbind row bind in cui le due matrici vengono messe sostanzialmente una sotto l'altra invece che una di fianco all'altra come nel cbind oltre alle matrici un altro tipo composto è quello delle liste che è sostanzialmente analogo agli array con l'unica differenza che gli elementi che compongono la lista possono essere di tipi diversi anche composti quindi una lista potrebbe avere come elemento un vettore quindi la nostra lista L in questo esempio contiene come primo elemento un vettore con gli elementi 1 e 2 e come secondo elemento una stringa quindi quando la stampo vediamo che in questo caso gli elementi vengono descritti con la doppia quadra quindi il primo elemento di una lista è quadra quadra 1 il secondo elemento è questo quadra quadra 2 ed è una stringa mentre il primo invece è una lista è un vettore ovviamente una lista potrebbe contenere tra i propri elementi anche un'altra lista non ci sono limiti in generale è meglio non fare liste dentro liste dentro liste perché poi si perde traccia di come sono organizzati per quanto riguarda le liste anche esse come per i vettori possono avere dei nomi quindi ad esempio posso mettere n come nome del primo elemento e char come nome del secondo in questo caso il nome viene riportato con dollaro nome posso utilizzare names esattamente come per i vettori per ottenere i nomi degli elementi e posso accedere agli elementi utilizzando diversi meccanismi posso utilizzare l'operatore di accesso che è il dollaro oppure posso utilizzare l'operatore di indicizzazione di lista che è il doppio quadro per cui l dollaro n mi permette di accedere all'elemento che si chiama n dentro la lista l l'operatore di indicizzazione delle liste invece il doppio quadro mi permette di andare a specificare il nome dell'elemento a cui voglio accedere attenzione qui c'è una profonda differenza tra la sintassi qui il nome quando utilizzo l'operatore di accesso quindi il dollaro non devo andare a specificare una stringa ma metto semplicemente proprio il nome senza apici mentre invece quando utilizzo l'operatore di indicizzazione devo mettere proprio la stringa che corrisponde al nome quindi l'operatore di accesso è decisamente più comodo e più compatto è ovvio che se io volessi accedere non all'elemento n ma a un elemento il cui nome è indicato di una variabile ecco che devo utilizzare per forza la doppia quadra perché qui devo mettere un nome e non posso mettere il risultato di una variabile terza possibilità è invece di utilizzare il nome utilizzare la posizione anche qui gli elementi partono dal primo quindi quelle tre espressioni sono sostanzialmente equivalenti e ci restituiscono il primo elemento della lista che si chiama n e che contiene sostanzialmente un vettore di due elementi 1 e 2 gli operatori di accesso possono anche essere utilizzati non soltanto per leggere ma anche per scrivere e questo mi permette ovviamente di andare a modificare un elemento esistente ma mi permette ad esempio nel caso in cui l'elemento non sia presente quindi nella lista L non c'è un elemento che si chiama Logicals di aggiungere un elemento che si chiama in quel modo alla lista questo è molto comodo per andare a costruire incrementalmente ad esempio gli elementi di una lista ovviamente posso fare le operazioni di slicing esattamente come facevo con i vettori è bene qui sottolineare la grossa differenza tra l'operatore quadre singolo e l'operatore doppio quadre l'operatore quadre singolo come in questo esempio mi fa uno slicing ovvero mi prende un sotto insieme della lista e il risultato è ovviamente un'altra lista invece l'operatore doppio quadre che cosa fa mi va a prendere uno specifico elemento e quindi il risultato non sarà necessariamente una lista ma sarà del tipo di quell'elemento quindi un vettore di numerico di stringhe di elementi logici quello che vogliamo terzo esercizio modifichiamo la solita funzione Pitagoras in modo che questa volta accetti una lista una lista che contiene due elementi che abbiano i nomi A, B o C due tra questi e calcoli quello che manca ovviamente utilizzando il teorema di Pitagora per cui se passo una lista con elementi A e B che valgono rispettivamente 3 e 4 verrà calcolato C l'ipotenusa con il teorema di Pitagora e quindi sarà 5 nuovo tipo di elemento i fattori i fattori sono utilizzati in R per andare a rappresentare variabili che sono nominali o al massimo ordinali il grosso vantaggio rispetto ad avere delle etichette come una stringa è che i fattori sono memorizzati in maniera più efficiente internamente perché sono memorizzati come degli interi un fattore può essere creato utilizzando la funzione factor a cui passo sostanzialmente un array vettore che può contenere stringhe interi quello che vogliamo quando stampo un fattore oltre a elencarmi quali sono i suoi valori mi elenca quelli che sono i livelli ovvero i possibili valori di questo fattore quindi sostanzialmente un fattore rispetto a un vettore di interio di stringhe a un numero limitato di possibili valori che sono chiamati livelli i fattori i livelli possono essere visualizzati con la funzione levels che mi restituisce un vettore di stringhe con i nomi di questi livelli e posso utilizzando la funzione tables andare a table df andare a vedere quali sono le frequenze dei singoli livelli all'interno di un fattore torneremo sulla funzione table che è una funzione di elaborazione sintetica molto utile quando parleremo nella prossima lezione di come andare a sintetizzare i risultati i dati che sono presenti in un file in un dataset in generale esistono anche i fattori ordinati che permettono di rappresentare i tipi ordinali per cui ad esempio in questo caso ho i tre livelli L, Low, Medium e High che sono ordinati come indica il parametro ordered e sono ordinati come indica questo vettore quindi Low è più piccolo di Medium che è più piccolo di High e in effetti quando andiamo a stampare questo fattore i livelli sono stampati con il segno di minore che indica esattamente l'ordinamento che c'è tra questi fattori tra questi livelli e arriviamo al tipo composto più utilizzato che è quello del DataFrame il DataFrame è utilizzato per andare a rappresentare i dataset tabulari buona parte delle elaborazioni di dati che faremo utilizzano di DataFrame l'input-output ad esempio da un file CSV di nuovo ci dà un DataFrame da un punto di vista implementativo equivale grossomodo a una lista di vettori dove tutti i vettori tutti gli elementi della lista hanno la stessa lunghezza ok le colonne corrispondono agli elementi della lista e i vettori corrispondono a tutti i valori delle colonne la semantica che di solito viene associata a un DataFrame è che ogni riga corrisponde a un'osservazione un soggetto o risultato di un esperimento e le colonne invece rappresentano gli attributi quindi le variabili che andiamo a misurare su ciascun caso ciascuna osservazione ciascun soggetto torneremo poi più avanti sulla semantica dei DataFrame quando vedremo dei dataset specifici e vedremo come possiamo utilizzarli posso costruire un DataFrame direttamente utilizzando la funzione DataFrame a cui passo una serie di elementi ciascuno ragionalmente con un nome e l'aspetto fondamentale è che equivale a costruire una lista ma l'unico vincolo in più rispetto alla lista è che tutti gli elementi devono essere vettori con la stessa lunghezza l'idea è che un DataFrame rappresenta una tabella dove tutte le colonne hanno la stessa lunghezza quindi il risultato sostanzialmente corrisponde alla tabella che vediamo qua sono i corsi del primo anno della web ingegneria con i relativi codice corso nome del corso semestre e numero di crediti cosa possiamo fare sui DataFrame allora possiamo utilizzare un'indicizzazione l'accesso agli elementi esattamente come abbiamo fatto con le liste quindi l'operatore di accesso funziona qui esattamente come nelle liste quindi Corsis Dollar Credits si riferisce alla colonna Credits all'interno di Corsis Corsis Quadra e Quadra e Quattro si riferisce alla quarta colonna e Corsis Credits è la stessa significato del primo quindi tutti questi quattro modi di scrivere sono equivalenti esattamente come avevamo per le liste posso andare a indicizzare una particolare cella della mia tabella in maniera analoga a quanto facevo con le matrici quindi la seconda riga seconda colonna la seconda colonna vi ricordate era il nome del corso la seconda riga era computer science quindi vado a prendere quel nome posso anche andare a fare lo slicing e quindi posso fare Corsis Quadra e andare a elencare le colonne che mi interessa per cui questo è utile se ho un data frame molto grande con tante variabili con questo posso andare a selezionarne un sotto insieme posso fare anche la selezione per riga quindi vado a mettere le righe 1, 3 e 6 ad esempio virgola nulla e questo sostanzialmente mi dà le righe con numero 1, 3 e 6 attenzione che è fondamentale mettere questa virgola perché se vado a mettere soltanto 1, 3 e 6 questi vengono interpretati come numeri delle colonne se invece metto 1, 3, 6 virgola significa che quelli sono i numeri delle righe senza la virgola vengono interpretati come colonne con la virgola invece vengono interpretati con la notazione tipo matrice e quelle quindi sono delle righe e non delle colonne posso fare un'operazione di ordinamento ad esempio vado a prendere courses credits ovvero i crediti dei vari corsi e vado a chiamare la funzione order la funzione order cosa mi fa sostanzialmente mi restituisce gli indici ma ordinati in base al valore dei crediti quindi order conterrà come primo elemento l'indice dell'elemento che tra crediti è più piccolo in realtà essendoci un meno davanti l'indice dell'elemento che è più grande perché è inverso a questo punto se io faccio corsis ord virgola cosa succede che andrò a fare uno slicing delle righe del mio data frame e il primo elemento sarà quello che in base all'ordinamento risultava come primo il secondo sarà il secondo eccetera e via di questo passo qui non sono riportati i crediti ma perché non ci stavano ma sostanzialmente vanno da 10 in basso i crediti liberi sono 6 crediti quindi è ordinato da quello più alto a quello più basso posso anche andare a filtrare gli elementi quindi le righe del mio data frame utilizzando un vettore di indicatori ovvero dei valori logici che sono true se voglio mantenere la riga e altrimenti no ad esempio posso andare a prendere corsis semester uguale uguale a 2 vuol dire che andrò a costruire un vettore di valori logici che hanno valore true per i corsi del secondo semestre e falso per gli altri per cui essendo già ordinati per semestre sostanzialmente i primi 3 corsi sono falsi e gli ultimi 3 sono veri e posso andare a utilizzare questo vettore di valori logici per fare uno slicing quindi vado a prendere questo vettore virgola perché di nuovo devo andare a selezionare le righe che non interessano le colonne e questo sostanzialmente mi va a prelevare i corsi del secondo semestre ovviamente posso fare ad esempio la somma di crediti del secondo semestre oppure posso fare la somma la somma del vettore di indicatori che mi dice che sono 3 i corsi in quel semestre e posso fare varie operazioni di questo tipo un altro modo di fare un filtraggio un'indicizzazione è quello di utilizzare la funzione which which che cosa fa mi dà gli indici l'abbiamo visto con i vettori degli elementi che soddisfano questa condizione quindi mi dà gli indici dei corsi che il cui semestre è uguale a 2 e quindi sono i corsi 4, 5 e 6 e avendo questi indici posso fare di nuovo uno slicing per righe andando a specificare questo quindi questi indici 4, 5 e 6 virgola risultato o i corsi del secondo semestre di nuovo stesso risultato di prima fatto in maniera diversa come faccio a leggere i dati quindi leccati molto velocemente esistono una serie di funzioni che si chiamano read qualcosa che leggono da un file o dalla clipboard e mi danno come risultato un data frame per cui ad esempio read.table mi legge una tabella di dati in cui i vari elementi di una riga sono separati da spazi e ogni riga è una riga del file di testo read.csv mi legge un file tipo csv read.table qui passo invece il nome del file pipe con parametro clipboard oppure pvpaste a seconda del sistema operativo mi legge dalla clipboard per cui ad esempio posso copiare da un file excel e ottenere il risultato oppure c'è un file read.xlsx che legge da un file excel ovviamente read.xlsx non fa parte delle funzioni standard di r ma è definito dentro un package che si chiama read.xl quindi se voglio utilizzare quella funzione devo importare quel package scusate installare quel package se non c'è già e prima di utilizzare la funzione scrivere library.read.xl torneremo su questi aspetti e su questi dettagli di lettura dei file quando vedremo come leggere i dati e come fare un po' di analisi base di dati concludo questa lezione con una breve sintesi di quali sono i vantaggi e svantaggi di R sostanzialmente è un tool molto diffuso che è utilizzato sia da profilazione professionistiche accademici può essere installato in qualsiasi ambiente su qualsiasi tipo di macchina quindi è portabile su vari sistemi operativi il codice è essenzialmente aperto quindi lo posso portare e posso andare a costruire delle routine che accedono a qualunque tipo di file qui abbiamo visto i file ma posso anche accedere a un database ci sono anche di metodi per accedere direttamente ai dati contenuti in database alcune limitazioni sostanzialmente il linguaggio R si basa su un linguaggio che si chiamava S e che è stato sviluppato 40 anni fa quindi la sintassi è un po' vecchia simile a quella del C e anche la sintassi del C è vecchia le caratteristiche di R sono sviluppate in un ambiente open source quindi se questa comunità di sviluppatori open source non sviluppa una qualche funzionalità non c'è è anche vero che questa comunità è così ampia che sostanzialmente si trovano package che sono in grado di fare praticamente qualunque cosa R non è la soluzione ideale per qualunque tipo di problema ma nessun linguaggio è la soluzione universale ci possiamo fare tante cose e l'idea è di andare a scegliere il linguaggio più adatto in funzione del compito che vogliamo andare a svolgere per analizzare i dati e visualizzarli R è un ottimo linguaggio rispetto ad alcune soluzioni ad esempio usare Excel oppure altri strumenti come ad esempio Tableau R è un po' più complicato perché è un linguaggio di programmazione quindi devo impararlo devo avere i concetti in base di programmazione per poterlo usare in maniera efficiente quindi ha un percorso di apprendimento un po' più complicato rispetto a uno strumento diciamo così chiave in mano non di programmazione e un altro aspetto è che R è un linguaggio interpretato ovvero io leggo scrivo il codice questo viene interpretato viene valutato e poi viene prodotto il risultato questa operazione è più lenta rispetto a ad esempio fare lo stesso tipo di operazione in C dove viene compilato e viene eseguito direttamente dalla CPU senza un passaggio intermedio che viene fatto prima è anche vero che però ci sono tante funzioni implementate in maniera molto efficiente che invece anche in R danno ottimi risultati in termini di prestazioni che Grazie.